Esistono sulla terra dei posti magici, pieni di mistero, con dei territori selvaggi, castelli, laghi, leggende, e uno di questi posti è Scozia. Appena usciti dall'aeroporto bisogna prendere il tram oppure l'autobus che vi porterà direttamente in centro della città. Io ho approfitto di prendere il tram al costo di 6,50 di sterline, quindi più o meno 7,40 euro. Perdonatemi per la mia faccia, è una bella riconvenita, ma perché mi sono svegliato presto alle 3,30 di stanotte? Ma a chi ci importa? Ci importa che siamo qui ad Edimburgo, una delle mie ammette preferite che non vedevo l'ora di arrivare. Guardate qua, siamo qua a Prince Street Garden. L'area dei giardini, in passato, era occupata dal lago più importante di Edimburgo, il Norlock. Il lago fu utilizzato come difesa naturale della città. Dal Medioevo al XIX secolo, il Norlock fu utilizzato per fare esperimenti di stregoneria, per nascondere i cadaveri, come luogo d'affluenza dell'acqua e reflui e al tempo stesso come fonte di acqua potabile. Fu questo uno dei motivi principali dell'insalubrità della città e delle continue malattie che colpirono la popolazione. I giardini di Prince Street Gardens furono inaugurati nel 1820, dopo il trenaggio del lago. Bello, eh? Bello grosso questo Wojtek, il super orso eroe che c'è stato anche Cassino nella battaglia per liberare dai tedeschi durante il Secondo del Mondiale. Pensate un po' a Fuldo Tota del realizzimento polacco, che si unì poi all'esercito britannico e trasportava le munizioni, le casse, tutto quanto. Bello bravo, mangiavo con i soldati, dormivo insieme a loro, fu veramente un bel compagno. Guarda, te la faccio soddisfatto del soldato qui in alto. E niente, è finita la guerra, è sopravvissuto, fu portato qui ad Agimburgo, allo zoo e così visse fino alla fine dei suoi giorni. Grazie a tutti. Un'altra delle tappe da non perdere è la Victoria Street, la strada, una delle strade principali, guardate qua, con i tipici negozi qua colorati, tra cui non può mancare anche una visita all'Harry Potter Store ufficiale, veramente tanta tanta roba. Non sono un fan del film, ma veramente uno spettacolo quel negozietto. Tre piani, uno dietro l'altro. E adesso è ora di mangiarsi un bel paninazzo al maiale sfilacciato, guardate qui, c'è scritto anche in italiano, come vedete il vostro piglet oink o gronten. e via, con le celsine, mostarda, di tutto e di più. Allora, com'è sto panino con la carne sfilacciata di maiale, mostarda, maionese, pan grattato, con le cipolle. Vediamo che è molto buona. E niente, questa città non finisce più di stupirmi. La credevo, bella, ma vi dico di più, anche con il brutto tempo è comunque bellissima. Ma non sto scherzando, provate per credere. Questo cagnolino è famosissimo qui di Edimburgo. Per anni e anni è stato fedele al suo padrone morto e ha dormito lì di fianco alla sua tomba. Poi, quando anche il cagnolino morì, ovviamente lo saprirono insieme al padrone. Se sei toccato il nasino di Bobby, porti fortuna. Edimburgo è famosa per i suoi cimiteri. E questo, in particolare, il Grefelskekiad, è pieno di storie e leggende. Pare che sia uno dei luoghi più infestati del mondo, pieno di fantasmi e di anime tormentate. È una delle attrazioni più visitate della città. Nacque a metà del Cinquecento e qui sono state sepolte migliaia di persone, dalle più umili fino ad alcune più importanti. Il cimitero costituisce anche un vero e proprio catalogo artistico di simboli legati al tema della morte. Molte sono immagini classiche, teschi, tibie, il tristo mitiettore, angelo della morte, obelischi. Altre, invece, sono rappresentazioni artistiche, decisamente più originali. È famoso anche per aver ispirato la scrittrice Rowling per il suo Harry Potter. Quella grata serviva per le tombe, venivano coperte, pensate un po', per non far rubare i cadaveri. I cadaveri che venivano presi e rivenduti, generalmente dottori oppure dei chirurghi, che dovevano fare dei sperimenti. Vi racconto brevemente la storia del signor McKenzie. Laggiù si trova il mausoleo, il suo mausoleo. È un signore che è stato molto, molto cattivo durante il suo periodo di vita. Dopodiché, diverse maledizioni che avvenirono sopra la sua tomba, appunto, negli ultimi 25 anni lui decise di vendicarsi, così si dice. Poche parole, sono venuti più di 400 fenomeni paranormali, tra cui anche la storia del vagabondo che si infiltrò dentro per profanare la tomba, poi cadde sotto, in mezzo dei scheletri. Anche la storia del prete che arrivò in questo cimetero per esorcizzarlo, si rifiutò e dopo qualche settimana morì di infarto. Tutte queste storie hanno creato più suspense e più fama di quel mausoleo e, appunto, tante persone, soprattutto nei ghost tour, vengono a vederla, a trovare, a sentire questa storiella. Voi ci crederete oppure no? E per tutti i fan di Harry Potter non poteva mancare la tomba. Indovinate un po' di chi? Mi trovo a Meadows, i grandi prati verdi. Guardate che bellezza! Non oso immaginare come sono in tarda primavera e inizio d'estate. Grandissimo spazio verde, a disposizione dei cittadini di Edimburgo. Molto bello! Il girato di oggi finisce qua. Dietro alle mie spalle c'è la chiesa di San Egidio, bellissima. Non so se riusciremo a vederla dentro, lo spero proprio martedì. E laggiù c'è il vialetto con le vie principali del centro. Oppure, se mi giro da questo lato, laggiù, non so se lontanazzo è riuscito a vedere, si entra a vedere anche un po' di mare. Se non vedete lo stesso. Adesso è ora di trovare l'ostello. Rimetteremo un po' a posto. Mi sa che sarò cotto duro. Vedremo. Vedremo com'è a sto stello con le cabine del COD. Allora, ho appena preso le chiavi. Ma che posto è? Madonna, è enorme. Sono solo sul primo piano, ma qui ce ne sono altri piani. Poi tutto qua con le sbarre. Ma che strano, sembra tutto futuristico. Sopra una nave. Non mi prendete per il culo, per la mia faccia che so. Comunque qui sono all'interno della cabina. All'inizio sembra strana, ma in realtà è bella e confortevole. Mi giro. Ci metto tutte le cosine sopra. Qui ricaricare la mensolina. Da appendere. Poi ho anche un armadietto privato. Benissimo. Adesso è ora di riposarsi per domani. Che domani si parte alla volta delle islands. Buongiorno. Ma buongiorno un cazzo. Ve lo dico così perché guardate dietro di me. L'autobus fermo in mezzo a una corsia di emergenza qui sull'autostrada scozzese. Il nostro autobus si è rotto. Per fortuna è a 40 minuti dalla città da quando siamo partiti da Indimburgo. Ma a breve sta arrivando quello di riserva. Speriamo di partire il prima possibile anche perché è bella lunga oggi. 500 chilometri e siamo già in ritardo. Seguiremo con gli aggiornamenti. Ce l'abbiamo fatta. L'autobus è arrivato dopo un'oretta. Ci è toccato starci sopra con l'ho abbandonato il relitto. E allora adesso ripartiamo. Tra pochissimo. Ciao. Ragazzi ma guardate che paesaggio, che spettacolo. Questa è una tappa alle tre sorelle, tre montagne che una volta era una montagna unica e adesso sono separate nella valle di Grincò. Guardate che bellezza naturale. Puro spettacolo. Veramente, da brividi. Finalmente è arrivato alla principale meta. Loch Ness si trova proprio in quella direzione laggiù. Adesso vedete qua il ponte bianco. Una serie di piccole dighe che in realtà sono dei collegamenti che si aprono per il canale di Calaidonia. È stato costruito appositamente un po' di tempo fa per collegare il mare del nord con i laghi. Ce ne sono quattro laghi di seguito, tra cui anche Loch Ness. Tra un po' lo andremo a vedere e ve lo farò vedere per bene. La cosa che non può mancare con gli scozi, come ci ha suggerito la guida, sono le quattro stagioni durante la giornata. Cioè, poco fa, 5 minuti fa, c'era il sole pieno, adesso sta nevicando di nuovo. A tratti nevica, a tratti sole, basta che non sia pioggia, ho detto, è quella la cosa più brutta. Abbastanza freddo, gelido, però si sono coperto e continuiamo verso Loch Ness, che si trova in quella direzione lì. Aiuto, aiuto, mi sta trascinando. No, ma va là, vatene via Ness, è stato andato giù, nelle profondità, chi ti vuole? Ma no, sto scherzando, in realtà Ness non esiste. È solo una storia inventata, una leggenda, che i scozzesi stessi vogliono continuare a far viverla. Molto curiosità, molte curiosità ci sono, ma in realtà non c'è nulla laggiù, in questo lago. Ma i scozzesi, e lo stesso governo, hanno approvato una taglia di un milione di strerine, o cioè fino a un milione di strerine, per chi riuscisse a fare una foto realistica, più o meno decente, e più o meno assomigliasse al mostro di Loch Ness. Vedremo se qualcuno in Italia è ricco. Mi sa che non toccherà a me, anche perché qui oggi vedo solo questi sassolini, il lago. Nient'altro. Eh, già, peccato. Direte che mangio sempre. In effetti è vero. Guardate qua, un rivoltino di Wuster. Micron Pie, che mi ispirava ovviamente perché c'è un po' di pasta dentro, che farà cagare, secondo me. Vabbè, tralasciando questo, c'è un supermercato qui vicino, sempre a Loch Ness, nel paesino, e lì puoi trovare un po' di roba calda e fredda, un po' di misto, per non attendere troppo il ristorante e perdervi nel gran tempo, inutilmente. E il caffè. Ovviamente sperando che non lo rovesci, perché prima di un po' me l'ho rovesciato uno. Mi si è sfondato sotto, mai successo, e adesso ho paura di questi bicchieri take away, che si sfondano con il caffè, che vi viene addosso come una cascata. Musica E laggiù si trova Ben Nevis, la punta più alta delle aree scostesi, bellissimo, veramente è maestoso questo paesaggio, mi dispiace veramente tanto andarmene via. Ormai siamo giunti alla conclusione di questa fantastica gita e non poteva mancare l'ultima tappa in questo piccolo paesino di nome Pitt Rockery, a gustarci il gelatelo whisky, una delizia assolutamente da non perdere. E per finire nei migliori dei modi la giornata non poteva sfuggirmi un bel fish and chips e una degustazione dei tipici whisky scozzesi. Buongiorno, sono ad Starbucks a fare la colazione, vediamo com'è questa giornatina. promette bene, ma mai fidarsi di Limburgo, qua potrebbe fare il brutto tempo da un momento o l'altro. Comunque finiamo questa colazione col caffè americano che non poteva mancare, versione piccola, guardate, è enorme in realtà, e poi partirò alla volta delle colline, ne andrò a visitare una poi l'altra per vedere le vedute sopra questa città, non vedo l'ora e ve lo farò vedere. Porca miseria, sono arrivato in Grecia, da Edimburgo ad Atene, invece no, questa specie di partenone è qui sulla colonina di Carlton Hill, guardate che mi giro, che bellissima veduta. Tra poco vi farò qualche zoomata in là, stupendo, sul serio. E questa è una delle tappe che non può mancare per voi qui ad Edimburgo, Carlton Hill, una delle colline panoramiche, classiche, delle fotografie che ho trovato su internet. è un'emozione stare qui, seriamente, e poi il tramonto non lo so immaginare. In questo momento mi sto dirigendo verso Arthur's Seat, l'altra collina, una delle sette colline di Edimburgo, è ancora più spettacolare, vedo della gente lassù, è un percorso un pochino più da trekking e speriamo di vedere delle bellissime cose, bellissime vedute panoramiche. Lungo la strada non potevo mancare un cimitero. Il palazzo di Holleruth House, in fondo alla Royal Mile di Edimburgo, è la residenza ufficiale del re, quando si trova in Scozia. I visitatori possono esplorare le quattro recessali di questo palazzo del XVI secolo, ancora utilizzato durante le cerimonie reali. Perdonatemi per i miei capelli, ho un po' di fiatone, ma ci sta perché è tutta una solita ripida, mi sembra in circa 300 metri di dislivello, ma tutto in una volta. per cui armatevi di pazienza e tirate avanti come dei muri. L'ho conquistata, ce l'ho fatta e vai, Arthur Seat è alla veduta su Edimburgo. E' maestoso stare qui. Chi se ne frega della fatica, chi se ne frega del sudore, ne vale la pena. Non lo so se riuscite a vedere i chicchi, ma sta navicando con il sole pieno. Benvenuti a Edimburgo, nel suo meteo favoloso. E via, un altro spuntino, questa volta il pranzo, noodles giapponesi con il pollo, altre cosucce, cipollotti, vedo dei funghi. Ho preso anche dei ghiozza, bellissimi così confezionati take away e il tè verde caldo. Non vedo l'ora di gustarmelo tutto, con gli akisoba al pollo. Sono favolosi. Altro che nei nostri ristoranti. Il monumento a Scott è una struttura in stile neogotico, situata nella New Town di Edimburgo, dedicata a Sir Walter Scott. Venne costruito durante l'era vittoriana, nel 1840, pochi anni dopo la morte di Scott, ed è il più grande tributo dedicato a uno scrittore mai realizzato in Europa. Su di esso si trovano più di 60 sculture che rappresentano personaggi tratti dai romanzi dello scrittore. New Town è una parte della città, in realtà non tanto nuova, ma perché Edimburgo, una città vecchia, era edificata con le mura e all'interno stava spopolando troppo. Era cresciuto talmente tanto dalla popolazione più in condizioni estreme. Allora, con l'abbattimento del muro, hanno costruito una nuova città, da uno pietetto giovane. Era costruita così ideata, caratteristica dalle finestre, piccoli, tutti in ordine, tutti dritti, rettangolari, questo stile giorgiano-vittoriano. Molto simpatico e caratteristico da passeggiare in mezzo a queste vie. Perdevi un po', passateci un'oretta, due orette, ci sta in pieno. Saccas Lane è una delle strade più fotografate di Edimburgo. La via concede allo sguardo le tipiche case inglesi, in stile Meuse, nate sulle strutture delle antiche scuderie, abbellite di terrazzi fioriti e piante rampicanti. Ormai il sole sta calando, sto cercando di fare un pochino di fretta. Sono uscito dalla Newtown, ho proseguito verso Dean Village, un'altra delle tappe che voglio sicuramente visitare. Non si trova lontano, una quindicina di minuti a piedi. Qua potete vedere il fiume, il fiume Litz, che è quello che attravesse Edimburgo e va a sfociare le mani del nord. Stupendo, potete fare una passeggiatina qui sotto a Newtown e proseguire verso Dean Village. Un tempo, il Dean Village era uno dei quartieri più ricchi e prosperi della città. Sulle sponde del Litz erano attive ben 11 fabbriche, che sfruttavano la velocità e la potenzialità dell'acqua per azionare e dare vita alle palle dei murini. L'avvento delle nuove tecnologie, i nuovi sistemi produttivi e la stazione poco lontana però provocarono un grave danno al quartiere. E intorno alla metà del 1900, quest'area divenne un luogo molto povero e fatiscente. Fortunatamente, la bellezza di questo luogo fece sì che il periodo di degrado durasse relativamente poco. Le abitazioni vennero recuperate e riportate al loro antico splendore. Ancora oggi sono alcune delle case più ambite di tutta la capitale scozzese. Sicuramente non può passare un osservato a Wellcote, il quartiere più famoso. Musica Buongiorno, è ora di partire, si torna a casa. Che vi devo dire della Scozia? Le immagini parlano chiaro, non ce n'è bisogno di dire. Dico solo che ho assaggiato una piccola parte, una minima parte, ma la tradizione e la cultura scozzese si sente in ogni angolo e si percepisce questa magica atmosfera. Edimburgo è una città bellissima, forse una delle più belle che ho mai visto, ecco, proprio con la sua caratteristica non può mancare, per cui fateci un pensiero, sicuramente uno delle mete più ambite, armatevi per il meteo perché è molto ballerino, ma non vi preoccupate, tutto si può fare, per cui prontate pure il vostro volo e venite qua, soprattutto poi nelle islands, quella digital tour è obbligatorio, mi venivano i brividi a vedere quici sono i paesaggi. Per cui, niente, finisco qui e mi raccomando, commentate, lasciate un like per supportare il canale, il video e se non foste ancora iscritti, iscrivetevi, così non vi perderete i prossimi video, pubblicazioni e ci vediamo alla prossima, ciao!